Ora apriamo e inauguriamo la mostra ai volti dell'alienazione, i segni di Roberto Samboletti, questa bellissima sala, ringraziamo l'assessore Zaccaria per l'ospitalità, una mostra itinerante, sono oramai due anni che abbiamo iniziato da Milano e non è ancora finita. Una mostra che è inserita nella campagna per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, due anni fa eravamo ancora in una fase di transizione, di poca chiarezza, c'era una scadenza che veniva di anno in anno prorogata, finalmente nel 2015 non c'è stata più la proroga e quindi si è avviata la chiusura definitiva, in cui le regioni sono state, sono ancora in parte malempienti, quindi Franco Paglione, che è forzolatore della mostra, è stato nominato commissario del governo per la chiusura definitiva, per cui ci racconterà gli ultimi aggiornamenti e poi anche il senatore Sergio Poggiudice che ringraziamo, membro della Commissione di Giustizia del Senato e della Commissione Storzionaria per i diritti umani. La mostra continua a girare perché è molto bella e quindi molto richiesta, è la prima volta che i lavori di Sambonè vengono esposti nella loro interezza, alcuni di questi disegni hanno fatto parte di sue mostre, questo artista straordinario, eclettico, conosciuto per le sue qualità di designer, ma come si può vedere qui è anche un ottimo scrittore e ritrattista. Questo lavoro è stato fatto negli anni 50 in un manicomio a 50 km di San Paolo in Brasile, una città in un manicomio perché erano 15.000 internati. Sambonè diventa amico del direttore e passò sei mesi a fare questi ritratti. Poi negli anni 70, a rapporto con il suo lavoro, c'è una cartella chiamata Della Pazzia, dove insieme a Giorgita si ha aggiunto anche dei testi di poeti e scrittori importanti da Shakespeare a Voltaire, tutti sul tema della tazzia, e questa cartella è rimasta un po' sconosciuta. Grazie a un'amicizia tra mio papà, Castorio Novelli, un artista che ha vissuto a San Paolo in quegli anni, questa cartella ha anche la mia famiglia, quindi ho fatto vedere a Franco e all'inizio abbiamo pensato di cominciare questa esposizione a sostegno della campagna per la usura degli ospedali psichiatrici e giudiziari. Come potete vedere, sono dei segni, con pochissimi segni, San Paolo riesce a far capire quello che succede, che succedeva in quel luogo, che purtroppo succede ancora in altri paesi, noi vorremmo poi cominciare un tour anche internazionale, andando così, contribuendo magari anche in altri paesi in questa battaglia di civiltà. Quindi siamo molto contenti di essere qui a Bologna, andremo a Trieste, finalmente tappa che dovremmo fare assolutamente a metà dicembre e poi continueremo anche negli mesi del 2017. Insomma, parola all'assessore Zarparia, assessore Pottuna e Pottuna. Io mi limito a portare un saluto, ma soprattutto a dire che oggi abbiamo venuto volentieri questa mostra per la qualità, nel fatto di le opere, ma anche proprio per l'argomento che si leva all'automento della campagna di chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziale. Dico una cosa che ha colpito a me personalmente, al di là del fatto di alcune delle espressioni e al di là del fatto che, come è stato detto, siano un po' contratti con cui venivano fatte queste opere, io ho guardato dopo dove li aveva fatti e quando li aveva fatti, perché secondo me quello che toglie è proprio quell'olore, se tutti sappiamo, credo che vada bene per qualunque posto, per qualunque tempo, cioè ha colto veramente quello che non ci deve essere, che è stato il gruppo di queste strutture, ma diventa quasi poco importante, che anno era, che luogo era, questo secondo me l'ha colto molto bene. Quindi è un vero piacere, come vi voglio sentarvi, e come vi vedo qualcuno che mi ha rispondo a questa mostra che deve veramente continuare ad andare più lontano possibile, anche in altri paesi, quindi grazie a volte e grazie a venire qui, perché è stato un grande piacere. Grazie. Grazie. Sì, io ringrazio tanto per l'invito, in questi pochi anni, tre anni di cittatura in Senato, il tema del risultato di OPG, ci ha accompagnati come una sorta di obiettivo difficile da raggiungere, sempre rimandato, un peggio volto, nel 2014 abbiamo dovuto portare delle leggi di proroga a quella data di scadenza, di chiusura definitiva di OPG, che era stata fissata, ma che non si riusciva a rispettare. Cercando in corso d'opera, in questi ultimissimi periodi di tempo, in queste strutture, di provare a limitare sempre più i danni, ricordo anche con un pizzo di soddisfazione personale, un ammendamento che insieme a Senatore Manconi approvamo in Senato, durante la discussione della legge di proroga della chiusura di OPG sulla eliminazione dei nostri detti al gaso in bianco, un ammendamento approvabile, in cui, per lo meno per un primo anno di esistenza in vita di queste strutture, si ribadiva con il principio di civiltà, per cui la reclusione all'interno della struttura di questo tipo, di una struttura di carattere psichiarico-giudiziario, non potesse superare il massimo della benedità del pianista per quella reale. Perché uno dei paradossi degli OPG era che in questa zona di confine tra la struttura sanitaria e la struttura carceraria si rischiava di rimanere strutturati, nel senso che la pericolosità sociale e la necessità quindi di mantenimento all'interno della struttura faceva sì che queste persone, nonostante come dire che dovreste in teoria godere di un trattamento attenuato a causa della loro difficoltà e del loro disagio psichiatrico, venivano reclusi anche con un fine pena mai, nel senso di un fine pena che veniva sempre allungato indipendentemente da quella che sarebbe stata la pena se fossero stati puniti criminali comuni. Un altro passaggio importante e delicato c'è stato qualche settimana fa in Senato quando nell'approvazione della delegata di riforma dell'ordinamento penitenziario si è affrontato anche il tema delle nuove remise, delle nuove residenze che dovranno sanitari, che dovranno sostituire, che stanno sostituendo gli OPG e abbiamo rimarcato, dopo un percorso un po' accidentale, che rischiava di portare da un'altra parte, abbiamo rimarcato il fatto che se nelle nuove remise dovranno andare quelle persone che oggi sono rinchiuse, fino a oggi sono state rinchiuse negli OPG e quindi corrispondono a quelle delle definitività della diagnosi e della pena, non potranno andare, non andranno alla remise messe un'altra serie di soggetti, per esempio appunto quelli con penato definitivo, quelli a cui non ci è stato ancora certificato, non è stato psichiatrico o quelli a cui sono certificato un disagio psichiatrico dopo aver commesso e creato e quindi nel momento in cui ci sono già scontato una pena in un ospedale, in un istituto penitenziario classico, cosa che ha salvato qualche modo di identità in queste residenze. È ovvio che, anche questa che è un po' di inferire dalla delega al governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, la scelta di trattenere dentro gli istituti penitenziari diverse tipologie di persone, che sono quelle che citavo prima, che comunque hanno il sistema psichiatrico, significa che il governo dovrà non assolutamente implementare e consolidare le parti della situazione psichiatrica all'interno del sistema penitenziario, in modo che effettivamente chi si trovi in termini di carcere ad un istituto psichiatrico possa comunque fruire di un'attenzione, di un trattamento commisurato alla situazione psichiatrica dei detenuti. Ci stiamo incambinando verso la conclusione di questo percorso che può, che per l'appunto ancora non si è concluso, io mi auguro che un'azione culturale come questa è quella prodotta da questa mostra, accompagnando questi ultimi spero mesi di mantenimento in vita degli ultimi OPG rappresenta anche una sollecitazione costituale, affinché quel giorno, un punto in cui potremo dichiarare conclusa la fase della vita degli europei psichiatrici di giudizia in questo Paese, sia effettivamente felice. Grazie. Grazie. Siamo in una nuova tappa di questo sostegno a una campagna culturale e politica, che è quella che fa dell'Italia un Paese all'avanguardia in Europa e nel mondo, perché avere chiuso i manicomi cosiddetti civili con la legge 80 ormai decenni fa e oggi chiuso i manicomi a chiudere il manicomio criminale è una cosa straordinaria, una vera rivoluzione culturale. Noi abbiamo pensato di aiutare questa campagna due anni fa con questa esposizione di opere così straordinaria, ma che fanno emergere i volti che sono martorriati dall'istituzione totale. questi volti sono resi efficacemente, ma sono così dopo anni di chiusura in un luogo incredibile come il manicomio. Abbiamo fatto questa riflessione che è vero che valgono anche per un manicomio di oggi, ma il fatto che siano stati disegnati negli anni 50 ci dice che l'arte ha anticipato anche la riflessione culturale politica. Cioè questo è prima di Foucault e prima di Basaglia. E quindi il fatto che un artista avesse individuato una contraddizione umana così forte ci ha spinto a riproporla per aiutare una campagna che appunto è quella che diceva il senatore lo giudice in cui il Parlamento italiano ha scelto una via molto coraggiosa. In un tempo non facile non scontato, perché in un tempo securitario decidere di chiudere il manicomio criminale perché l'OPG è assieme carcere e manicomio è stato un atto coraggioso. Sono stati già chiusi gli OPPG di Reggio Emilia e qui in Emilia Romagna vi sono due rems molto all'avanguardia, molto che fanno un lavoro interessante sia a Parma che a Bologna. Abbiamo chiuso l'OPG di Aversa e di Secondigliano. Quando abbiamo iniziato questa mostra che è stata a Milano, a Roma, a Ferrara, a Brescia, a Firenze, a Matera, c'erano ancora 900 persone in l'OPG. Adesso ce ne sono 26. Siamo a Barcellona, Pozzo di Gotto e a Montelupo, Fiorentino. Io spero che per Natale si chiudano. La chiusura degli OPG non vorrà dire che la partita è finita, anzi deve aprirsi una nuova partita per realizzare strutture di tipo comunitario che non abbiano niente di concentrazionario e che siano invece la negazione della contenzione e della costrizione e siano invece dei luoghi che, rifiutando nel gastro e che siano capaci di inserire in luoghi di vita, rispettando la dignità delle persone per una vita degna di essere risulta. è una sfida grande. Credo che nei prossimi mesi la tappa enorme, quella della chiusura degli OPG, sarà raggiunta e poi ricorrerà lavorare perché queste residenze siano le più accettabili possibili e che nelle carceri non ci siano nuovi manicomi nascosti e questa è una questione che riguarda l'amministrazione penitenziaria. Insomma, il cammino è avviato. Questa mostra credo che ci ha aiutato a far capire come il manicomio in genere era il segno dell'orone, così il presidente Napolitano definì e aiutò l'approvazione della legge, che adesso è la legge 81, che deve essere rispettata e realizzata. Quindi noi ci auguriamo che anche questa mostra sia vista dai giovani, dagli studenti, perché mettiamo assieme una scelta politica con una rappresentazione culturale e credo che la cultura aiuti anche le scelte della buona politica. e quindi abbiamo stampato un catalogo, credo molto molto bello, che ci auguriamo che anche questo sia diffuso il più possibile. Quindi grazie a tutti, non c'è l'aperitivo, ci dispiace. Questa mostra si realizza in giro per l'Italia grazie alla coppia ineffabile Gaccarù, che da Milano allestisce e ci aiuta. Vitti e Clara Gaccarù consentono questo viaggio per l'Italia. Grazie anche a loro.